Musica Carabinieri, vasta operazione antidroga in tutta la Sicilia, emessi 11 provvedimenti, effettuati 4 arresti, dettagli dell'operazione, illustrati a Modica. Ragusa, seduta del Consiglio Comunale ieri sino a tarda notte, il MUOS, il canone idrico al centro del dibattito in aula. Vittoria dopo la richiesta della madre ai nostri microfoni, il comune si interessa della vicenda del bambino autistico. Comiso ricorda più la torre, ieri tante iniziative per ricordare il movimento contro l'installazione dei missili nella base nato di Comiso. Buon pomeriggio dalla redazione di Free News, oggi 5 aprile, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Vasta operazione antidroga è stata svolta questa mattina in varie parti della Sicilia. Emessi 11 provvedimenti di arresto su ordine delle procure della Repubblica di Ragusa e Modica, anche se finora sono stati fermati, per ora solo in 4. Gli arrestati facevano parte di una ramificata rete di spacciatori di eroina e ascisce. Questa mattina i dettagli dell'operazione sono stati illustrati presso la procura della Repubblica di Modica. Sentiamo. 11 provvedimenti di arresto per spaccio di droga. Alle prime luci dell'alba i carabinieri della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto 4 persone, delle 11 raggiunte dal provvedimento. I fermati sono accusati di far parte di una ramificata rete di spacciatori di eroina e ascisce nell'area della provincia eblea, che si riforniva dal canale della Sicilia occidentale, in particolar modo a Palermo. Sequestrate numerose dosi di eroina, ascisce e flaconi di metadone. Gli arresti fanno seguito ad un'articolata attività di indagine condotta a partire dal mese di ottobre del 2010, dai carabinieri del nucleo di Modica. Indagini che hanno permesso di individuare e segnalare un gruppo di giovani italiani stranieri, dediti allo spaccio nei comuni del loro circondario. Grazie alla testimonianza di alcuni assuntori è stato possibile risalire al canale di approvvigionamento della droga. In particolare sono stati fermati un 44enne pozzallese pregiudicato e due tunisini di 28 anni, uno dei quali già detenuto presso il carcere di Messina. Le indagini proseguono con il coinvolgimento dell'Interpol per risalire alle altre persone coinvolte, sparse per tutta Italia ed anche all'estero. Ormai stanno sempre di più subappaltando le attività di spaccio ai piccoli gruppi di extracomunitari, di nordafricani e quant'altro e per invece dedicarsi alle grandi organizzazioni mafiosi alle attività di reinvestimento dei capitali illeciti. Ormai le operazioni sono così, le operazioni di polizia e giudiziaria risentono di questo fatto per cui questa polverizzazione della cattura richiederà ora alcuni giorni per andare a stanare tutti questi soggetti nelle varie località sia italiane sia anche all'estero, intanto che i militari dell'arma di Modica sono in contatto con l'Interpol proprio per continuare quella che è un'operazione che ritengo sia tuttora in corso. Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo di politica. Consiglio comunale ieri sera a Ragusa all'ordine del giorno quattro punti, solamente due dei quali sono stati discussi. Il dibattito si è concentrato sul MUOS, il sistema satellitare della Marina Militare Americana che dovrebbe essere installato a Niscemi e sulle mancate riscossioni da parte delle comune in materia di canone idrico. Consiglio comunale fino a tardanotte ieri sera a Ragusa, 26 consiglieri presenti. Primo punto all'ordine del giorno, l'adesione al comitato NUMUOS proposta dal PD e già discussa la scorsa settimana ma non votata perché la maggioranza voleva informarsi più dettagliatamente. E ieri la maggioranza ha presentato un atto di indirizzo col quale chiede alla regione siciliana di sospendere la concessione di spostare il sito e ripristinare il danno ambientale. Una mossa a quella di presentare un atto di indirizzo studiata ad arte dai partiti al governo perché se si fosse trattato di un ordine del giorno l'iter di presentazione sarebbe stato certamente più lungo. Forte della superiorità numerica, la maggioranza ha dunque bocciato l'ordine del giorno dell'opposizione e approvato il proprio atto. La minoranza, riconoscendo l'importanza dell'argomento, un atto di coscienza e non un atto politico, dicono, ha comunque deciso di votare l'atto di indirizzo della maggioranza che è stato approvato con 21 voti a favore. Gli unici ad uscire dall'aula sono stati dunque i consiglieri d'Italia dei Valori e di Movimento Città. E' scamotage ben riuscito alla maggioranza e al sindaco stesso, dunque quello dell'atto di indirizzo. I lavori la scorsa settimana si erano infatti interrotti perché l'amministrazione voleva informarsi ulteriormente. Queste informazioni a distanza di qualche giorno però non sono arrivate, per cui la maggioranza ha elaborato l'atto di indirizzo, unico modo che aveva per evitare di votare quello già sul tavolo. Senza l'atto di indirizzo infatti la maggioranza avrebbe dovuto delle tre possibilità, una, rimandare ulteriormente la votazione, cosa che avrebbe scatenato la reazione dell'opposizione, votare a favore dell'adesione al comitato, cosa che non voleva fare a priori, votare contro, cosa che non le conveniva agli occhi dell'opinione pubblica. L'atto di indirizzo ha insomma risolto il dilemma salvando la faccia, hanno detto voci, di corridoio. Altro argomento discusso sono state le mancate riscossioni da parte del comune in materia di canone idrico. Dal 2005 al 2010 ammonterebbe infatti a circa 13 milioni di euro la somma non riscossa, mentre il 2011 non è stato ancora fatturato. La discussione è andata comunque al di là del problema idrico, interessando l'intera capacità di recupero dell'evasione complessiva da parte del comune. Sollevato il problema dei passi carrai, che risulterebbero solo 3.000 in tutta la città, quello della tassazione in generale imposta dall'amministrazione, che secondo il segretario del PD, Peppe Calabrese, avrebbe subito un rincaro di 17 milioni di euro negli anni è quello dell'evasione che col tempo è cresciuta progressivamente. Il sindaco ha tentato di difendere il proprio operato, dichiarando che si tratta solamente di ritardi tecnici di recupero, ma che al contrario si assiste ad un recupero maggiore rispetto agli altri anni. L'opposizione ha invece ribadito l'incapacità del comune di reperire le somme dovute. Quando si parla di tassazione e soprattutto riscossione, ha dichiarato il consigliere del PD, Giorgio Massari, è necessario assumere un impegno unanime perché siamo di fronte ad un problema di equità. Dobbiamo intraprendere un percorso virtuoso in cui l'impegno sia comune. E ieri in Consiglio Comunale si è discusso anche della cava Gonfalone, che con una delibera alla giunta municipale ha deciso di chiamare John Lennon Valley. Il consigliere Barrera del PD ha chiesto delucidazioni in merito a questa scelta, ma soprattutto in merito al progetto nato dall'idea di Filippo Giudice dell'Associazione Accademia Laoconte di trasformare la cava in una piazza piena di installazioni artistiche ed eventi immersa nel verde a beneficio dell'interesse culturale e turistico. Una trasformazione che sta creando qualche perplessità. L'amministrazione nelle vesti dell'assessore Tasca ha chiarito la questione del nome. La struttura resta cava Gonfalone, ha detto Tasca, ma è stata dedicata a Lennon. Mentre per le altre problematiche si è impegnato di informare il sindaco di Pasquale. Ci spostiamo a Vittoria lunedì scorso. Vi avevamo raccontato la storia del bambino autistico per il quale la madre aveva chiesto più ore di assistenza socio-sanitaria. Oggi le comune attraverso Francesca Randazzo, consulente a titolo gratuito per le problematiche sociali, si interessa alla vicenda sulla quale noi comunque continueremo a vigilare il servizio. Il comune di Vittoria si occuperà della vicenda del dodicenne autistico per il quale la madre aveva chiesto attraverso le nostre telecamere più ore di assistenza socio-sanitaria. Il bambino, affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo e contratti autistici, frequenta l'istituto comprensivo consolino ed è seguito da un insegnante di sostegno per 18 ore alla settimana, il massimo stabilito per legge. Le ore socio-assistenziali invece sono due alla settimana. Inoltre l'assistente segue altri bambini disabili distribuiti su tre plessi e questo renderebbe difficile l'eventuale gestione delle emergenze, aveva detto la madre, perché si potrebbero verificare nello stesso momento. Avevamo contattato anche la dirigente dell'istituto comprensivo, Angela Riolo, la quale ci aveva detto di aver chiesto con una lettera all'amministrazione indirizzata al sindaco Giuseppe Nicosia di inviare un'altra assistente a scuola. La nostra redazione ha contattato anche l'ufficio dei servizi sociali del comune, dal quale c'era stato detto inizialmente attraverso un funzionario che non era possibile fare più di quello che era già stato fatto, perché il servizio di assistenza specialistica viene affidato all'inizio dell'anno scolastico e che l'unico intervento poteva riguardare l'affidamento di una borsa lavoro ad un operatore socio-assistenziale. Oggi però siamo stati contattati da uno dei consulenti a titolo gratuito per le tematiche riguardanti i servizi sociali, Francesca Randazzo, la quale ci ha chiesto ulteriori informazioni sul bambino. In questo momento le scuole sono chiuse, ha detto l'esperto, ma dopo le festività pasquali mi occuperò della vicenda, che cercheremo di attenzionare per cercare di dare l'assistenza necessaria. Parlerò sia con i funzionari comunali che con la cooperativa affidataria del servizio. Dobbiamo, aggiunto, guardare al benessere del bambino e verificheremo se la soluzione potrebbe essere quella di affidare una borsa lavoro ad un operatore che deve rientrare nei criteri di attribuzione della stessa. Noi continueremo a seguire la vicenda e vi racconteremo il suo Evolversi. A Comiso il Comune ha deciso di interrompere il servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer. Scaduto il bando precedente, infatti adesso bisogna aspettare che se ne indica un altro. La denuncia arriva dal consigliere del PD Fabio Fianchino. Al peggio non c'è mai fine. Con queste parole il consigliere comunale del PD Fabio Fianchino interviene sulla decisione dell'amministrazione del Comune di Comiso di interrompere il servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer. Questa sedicente amministrazione comunale dichiara Fianchino, in vero sempre più simile all'armata Brancaleone, dopo avere toccato il fondo pare che abbia deciso di continuare a scavare per andare ancora più in profondità. Non solo questi amministratori, questo sindaco e questi assessori evanescenti, o nella migliore delle ipotesi, allegramente part-time, già non si vedono nei luoghi preposti, ma adesso lasciano senza un servizio così importante decine di famiglie. E la cosa ancora più grave è che i fondi per pagare il servizio ci sono e da un bel po'. L'amministrazione Alfano infatti avrebbe atteso che il bando precedente scadesse per indirne un altro. Questo significa, continua Fianchino, che per diversi mesi questi ammalati, queste famiglie sono senza assistenza o hanno scelto di pagarsi privatamente il servizio. Preannunciamo sindora un'interrogazione consigliare, conclude il consigliere, per capire di chi sono le responsabilità di questo vergognoso disservizio causato agli ammalati di Alzheimer e ai loro familiari. Restiamo al comune di Comiso, dove questa mattina c'è stato un incontro per discutere del futuro dell'ospedale Regina Margherita. La posizione del comitato è quella di lasciare aperta una porta ai massimi dirigenti dell'ASPE di Ragusa, con la speranza che vengano riviste le scelte dell'ASPE e che l'azienda mantenga gli impegni presi nelle scorse settimane. Infatti sostengono i rappresentanti del comitato l'ambulanza medicalizzata non si è vista, il servizio del 118 per i codici bianchi e verdi trasporta i pazienti al Guzzardi di Vittoria e non nel nostro comio casmeneo ed ancora si era discusso del reparto oculistica Comiso, ma le risposte sono ancora campate in aria. Il comitato ha dato tempo all'ASPE fino al 21 aprile per avere un altro incontro interlocutorio, altrimenti si è detto pronto ad occupare la sede dell'ASPE insieme agli amministratori e ai parlamentari. E con questa notizia termina la prima parte del nostro telegiornale a tra poco.